Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come state? Spero davvero ottimamente. Oggi vi voglio far vedere come ottenere Word ed Excel gratuitamente sul vostro computer. Sono Mariano Pirantozzi e vi do il benvenuto qui. Dunque, abbiamo già parlato diverse volte di come ottenere tutto il pacchetto Office, più o meno tutto, quindi Word, PowerPoint, Excel, Outlook, eccetera, ma online, gratuitamente. Andatevi a vedere gli altri video che ho registrato riguardo a questa questione, ma adesso ti voglio far vedere come ottenerlo e installarlo direttamente sul tuo computer. E ricordiamoci che stiamo parlando di cose completamente gratuite e completamente legali. Per fare questo dobbiamo fare un balzo indietro. Nel lontano 2010, non avevo i capelli bianchi, nel 2010 Microsoft tirò fuori quello che veniva chiamato Office Starter. Office Starter era una versione un po' più light di Office che aveva dentro di sé Word ed Excel, i due caposaldi di tutto il parchetto Office, e li aveva un po' depotenziati ed inoltre metteva una pubblicità in basso a destra, per permettere a più utenti possibili di provare le funzionalità di Office. Siccome tantissimi utenti utilizzavano lo Starter invece che quello a pagamento, nel 2012 scomparve dal mercato, ma ancora online si possono rintracciare le tracce di Office 2010. Dunque, una persona di buona volontà in un blog è riuscita a ritrovare tutti i file di download in tantissime lingue e quindi ti faccio vedere come avere sul tuo computer questo Office completamente gratuito. Quindi seguimi fino alla fine perché ti farò vedere come scaricarlo, come installarlo ed inoltre alla fine ti dirò anche alcune cose che sono molto importanti proprio su questo Office. Sei pronto? Dai, iscriviti anche al mio canale e questi sono tutti gli altri miei social. Andiamo! Come dobbiamo fare? Dobbiamo andare su questa pagina qui, poi te la lascio in descrizione e vediamo come qui hai tutta la descrizione di quello che abbiamo detto già adesso. Noi dobbiamo scaricare, vedete, qui ci sono i due download, io già il download l'ho fatti ma adesso lo rifacciamo insieme. Guardate, lo scarichiamo l'Office 2010s download 1f zip che è quello insomma più più recente. Apriamo il file, lo andiamo a vedere e vedete adesso io debbo estrarre tutto. Io già l'ho estratto, vedete sta su download, addirittura l'ho fatto due volte per essere sicuro. Dai, estraiamo un po' tutto ed ecco qui la cartella. Entriamo dentro la cartella ed abbiamo questi file. Nota bene come io ho fatto fare la scansione con VirusTotal a tutti questi file. VirusTotal, lo abbiamo già detto, è una estensione di Chrome oppure Edge, insomma a seconda del browser che tu utilizzi. Vai a vedere il mio video sulle estensioni per vedere se è Chevro da Virus. Mi usciva soltanto Chevro, scusami. Ecco qui, mi si apre praticamente questa schermata qui. Guardate, io l'ho già scaricata sia in italiano che in inglese, adesso magari me la scarico in tedesco, gli dico di fare lo start downloading e vedete come lui scarica 44 file. Ora, io l'ho già fatto per te e come al solito ti dico che poi ho passato tutti questi file con l'antivirus. Se tu non ti fidi fallo anche tu, non ti preoccupare. Nel frattempo che lui fa il download io ti faccio vedere già i file. All'interno sempre di questa cartella guardate come ho una nuova cartella che si chiama Bean. Tu adesso non ce l'avrai, vedete come io adesso ce le ho in diverse lingue. Ad esempio, torno su it, che è la cartella insomma in italiano, questo ancora sta scaricando, vabbè magari possiamo anche aspettare che lui finisca a scaricare, ma una volta che tu l'hai scaricata devi andare a leggere il readme e adesso lo facciamo insieme. Vedete che c'è il readme qui? Leggiamocelo. Guardate che cosa ci dice. Ci dice che per installare Office 2010, dobbiamo andare dentro questa cartella, e ci siamo, noi qui abbiamo la cartella it, it, e fare il run di questo file qui, che è il file insomma che raccoglierà tutti i file dei download. E poi dopo l'installazione dobbiamo fare doppio clic su questo file qui, che è un file per gli aggiornamenti. Noi faremo tutto quanto e poi dobbiamo reinstallare, dobbiamo fare il restart del computer. Dai, facciamo un po' tutto, questo ancora sta scaricando, ma in Netherlands l'ho scaricato, non so in che linguaggio, vabbè dai facciamolo finire un attimo, altrimenti ci rimane questo in sovraimpressione. Quindi ripetiamo, abbiamo fatto il download di questa cartella, abbiamo lanciato Office 2010s download, ci ha creato la cartella bin, all'interno della cartella bin abbiamo gli linguaggi, diciamo gli office nel linguaggio che abbiamo voluto scaricare e poi, una volta che stiamo dentro, abbiamo letto il readme ed ora lanciamo questo setup, che è il setup che noi dobbiamo lanciare. Io lo seguo come amministratore, gli dico di sì e guardate che cosa accade. Ricordo questo colorino qui, questo giallo paglierino qui. Vedete? Molto molto veloce nel fare l'installazione ed ora praticamente abbiamo installato questi due programmi all'interno del nostro computer. Guardate, infatti se vado sul menu start, vedete come ho Microsoft Excel e poi avrò anche Word. Facciamo il restart del computer. Dai, arrestiamo e facciamo, mannaggia, ho fatto l'arresto. Ti chiedo scusa, lo riavvio, dovevo fare il riavvio e invece ho fatto il rarresto. Nessuna paura perché basta riaccenderlo, il mio computer è straveloce e nel frattempo che io riavvio magari ti posso raccontare, non so, come ho passato questa giornata. Oggi è una fantastica. Vabbè, dai, basta dire stupidaggini. Ritorniamo sul menu start. Guardate come ho queste due applicazioni agognate installate. Vado, clicco, oh porca miseria, mi dice non è possibile seguire questa app. Mariano, ci hai raccontato un sacco di bagianate. Nessuna paura perché torniamo qui, torniamo sul download, cod, torniamo sulla cartella che abbiamo scaricato, che è questa. Torniamo dentro bin e voi avrete soltanto it. Guardate come c'è la cartella updates. A questo punto io, con il tasto destro, gli dico di aprire questa applicazione e guardate come lui mi sta scaricando. Adesso mi dice di chiudere alcuni processi di Windows e mi sta scaricando gli aggiornamenti. Poi incrociamo le dita e speriamo, appunto, ecco vedi, per rendere effettive le modifiche è necessario riavviare il sistema. Dai, riavviavolo. Questa volta veramente ha fatto lui il riavvio, quindi non ci siamo sbagliati. Ti stavo dicendo che ho trascorso questa domenica di questa ridente cittadina dell'entroterra italiano, e tutto va per il verso giusto. Spero anche questo. Spero anch'io di avere il mio Office 2010 potente sul mio computer. Vai, mettiamo la password, andiamo. Password non corretta e dunque la mettiamo bene. Ora, siete pronti? Incrociate le dita. Siete pronti anche voi ad avere Office, speriamo, sul nostro computer. Che proviamo? Ambarapacci. Ciccocò. Andiamo con Word, va. Andiamo con Word e guardate come mi sta avviando Word. Mariano, iniziali M. Vai ed eccolo qui. Spettacolare. Accetto le informazioni di licenza, figuriamoci. Qui, beh, installa soltanto gli aggiornamenti. Gli dico ok. Gli dico di sì. Forza, vabbè, questo qui. Gli dico ok. E guardate qui sulla destra, in basso a destra, come ti dicevo, avremo, ahimè, questo annuncio. Ma diciamo che ci possiamo accontentare. Ma guardate che qui avete a disposizione Office 2010, che è molto simile all'Office che abbiamo tutti noi aggiornatissimo, magari il 365. E io su questo computer nuovo, vedete, non ho un'altra licenza. E dunque, mi accontento di questo. Non andate via, perché adesso vi devo dire alcune cose importanti proprio su questa cosa dell'aggiornamento. E cioè dobbiamo fare attenzione. Dal momento che, sì, sì, è tutto bello quello che abbiamo detto, ma dobbiamo sapere che Microsoft ha tolto gli aggiornamenti proprio di questo Office qui nel 2020. Quindi potrebbe, come dire, avere dei problemi anche di sicurezza. Inoltre, come abbiamo detto prima, esistono delle limitazioni specifiche, come ad esempio l'impossibilità di utilizzare alcune funzioni molto avanzate di Excel. Ma, diciamo così, è tutto a prezzo zero. E quindi ci possiamo accontentare. Se la sicurezza è la vostra preoccupazione, però ci sono alternative open, come ad esempio LibreOffice o OpenOffice, che potete considerare. Entrambe offrono delle soluzioni davvero molto molto interessanti. Ecco quindi abbiamo visto come poter scaricare Word ed Excel direttamente sul nostro computer. Quindi non abbiamo più nessun problema. Scrivimi qui nei commenti se già tutte queste cose le sapevi. E magari manda questo video a coloro che vogliono avere assolutamente Word ed Excel sul loro computer senza dover fare cose strane. Perché poi prendiamo i virus, siti... Dai, ci siamo capiti. Quindi, ora non mi resta che ringraziarti perché guardi i miei video. Davvero io senza di te non sono nulla e ti auguro una vita splendida. E ti chiedo, dai, iscriviti al mio canale perché a te davvero non costa nulla. Per me è un grandissimo, enorme favore. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!